ah ragazzi ragazzi chi ha dormito oggi eh vabbè a parte questo questa eliminazione fa male a uno come me anche che aveva detto insomma che non trattava questa competizione con ossessione infatti questo è uno dei motivi perché a parte che le altre squadre sono più forti di noi ed è inutile negarlo secondo me perché comunque quando arrivano in finale difficilmente steccano ma ma nel dubbio queste cose avvengono allora il giorno dopo è un po difficile però mi dispiace per Gigi perché ha chiuso la carriera europea così mi dispiace tantissimo per lui mi dispiace per chi è andato a Madrid a sostenerli mi dispiace per noi davanti alla tv che abbiamo sofferto e abbiamo visto una grandissima stronzata ieri mi dispiace per i giocatori in sé perché chi pratica sport lo sa preparare una rimonta del genere è difficile riuscirci è l'utopia per me c'erano riusciti e vedere sudore di tutto il minio fatto in in casa del real madrid cosa che non riesce di sicuro a nessuno in questi ultimi anni e vedere tutto svanito e vanificato da un pezzo di merda figlio di puttana dipendente della uefa trade ok questo veramente io non sono uno di quelli che parla di palazzi sistemi perché contro bel monaco mi ero incazzato con i miei giocatori che avevano mollato gli ultimi 15 minuti però non è neanche possibile che lì andate il ritorno sei episodi contro all'andata contro la madrid quest'anno due rigori netti non dati zitto io sono stato zitto ho criticato la juventus lì perché per me era giusto criticare la juventus però dopo mi dai un rigore così al 93esimo ma per essere rigore questo per me è inesistente chi dice che è netto è in malafede malizioso e non è credibile oltre che essere una testa di cazzo perché comunque ho bloccato qualche figlio di puttana perché ve lo meritate siete pezzi di merda qui non avete diritto di parola se venite qua a provocare e a dire falsità e puttanate primo perfetto secondo se quello è rigore cioè per fischiare un rigore così al 93esimo quando una squadra ha dominato l'altra non dominato però comunque ha fatto la partita in casa dell'altra squadra quando ci sono queste due squadre qui per dare un rigore del genere al 93esimo ed eliminare una squadra deve essere non netto di più deve ammazzare il giocatore va bene perché quello per dare un rigore così significa essere in malafede significa voler uno tra Ronaldo e Messi perché figurarsi le semifinali senza uno senza entrambi questi due giocatori senza entrambe le spagnole una cosa vergognosa no quindi bisognava dare quel rigore assolutamente è una vergogna quell'arbitro spero non arbitri più spero che abbia la coscienza sporca fino a che vive perché poi ha buttato fuori anche Buffon che poi Buffon ha esagerato l'espulsione di per sé è giusta però ieri Gigi ti ho amato ti ho amato davvero come non mai perché ieri veramente hai avuto l'atteggiamento di quello che ci credeva di quello che ci sperava di quello che ci voleva che voleva passare il turno o quantomeno andare supplementari perché quello la Juventus io non dico che la Juventus meritava di passare assolutamente perché ripeto il tabellino non mente mai quindi se siamo stati eliminati probabilmente è giusto così alla fine però meritavamo quantomeno di giocarci supplementari questo assolutamente e poi poteva andare come poteva andare però meritavamo di giocarci i 120 minuti ieri e questo non è successo per colpa di uno che doveva andare a prendere la moglie intelligenziale quello doveva fare e basta ieri Agnelli altri coglioni che poi fanno video su youtube ecco l'unica squadra che non vuole il VAR attaccati sto grandissimo cazzo coglione vabbè sapete a chi mi riferisco comunque ieri Agnelli ha detto che il VAR serve anche in Europa da presidente dell'ECA Agnelli sta combattendo per avere il VAR anche in Europa quindi non rompete il cazzo che la Juventus non vuole il VAR no la Juventus vuole che venga un po' modificato il regolamento per il VAR che venga utilizzato con intelligenza il VAR che venga soprattutto chiarita diciamo chiarito il regolamento del VAR ecco quello quello la Juventus vuole non che il VAR venga eliminato cazzo è questo che siete ritardati non ci arrivate non ci arrivate perché non volete arrivarci siete in malafede maliziosi lo ripeto lo ribadisco non siete credibili quando parlate siete coglioni va bene perfetto detto questo quello che mi rincuora un po' è leggere i commenti sotto la pagina UEFA ufficiale della UEFA Champions League di altri tifosi di altre tifoserie europee squadre che non ci sono nemmeno più in Champions League che scrivono UEFA Dredd ladri il mondo ha visto e tutte queste cose qua mentre qui in Italia si continua a dire che il rigore è netto che la Juventus che è rubato 30 anni 40 anni se poi io vi enlenco tutti i favori sfavori arbitrali della Juventus tutti gli anni vedrete che la Juventus ha molti più sfavori arbitrali che favori però vengono sempre evidenziati i favori arbitrali come quella volta i Bernardeschi contro il Cagliari dopo quattro mesi di sfavori arbitrali un episodio avete fatto il culo così ci avete fatto la testa così brutte merda quindi se io vi riporto a maggio finito il campionato lo faccio lo faccio lo ripeto lo faccio me lo sto già preparando tutto ogni episodio a favore e sfavore perché elenco anche quelli a favore le riporto vi ripeto 4 favori arbitrali contro 17 sfavori arbitrali con il VAR quest'anno non rompeteci coglioni quindi ok perfetto detto questo ieri solo grandi applausi non me ne frega un cazzo era andata abbiamo fatto errori per carità però ieri grandi applausi abbiamo fatto un errore con Benatia che aveva recuperato regolarmente è stato dato rigore ingiustamente è stato il suo posto Buffon così è finita la carriera europea di Gigi e mi dispiace per lui mi dispiace che non abbia mai alzato questa coppa che sia andato tre volte vicino che non che magari quest'anno se passavi contro il Real Madrid qualche possibilità in più ce l'avevi però alla fine ripeto è inutile farsi seghe mentali e avere questa ossessione la coppa questa coppa qui va così perché comunque quando non ci dominano ci pensano gli arbitri questo è purtroppo questo è quindi niente io io ripeto altra cosa io accetto gli sfottò e li avrei accettati se avessimo vinto anche solo 1 a 0 e non fossimo passati però dopo una partita del genere da gente di merda che tifa Roma martedì sera perché italiana perché e poi tifa contro a Juventus che ci sta ci sta ci sta però poi ti sfotte quando tu hai vinto 3 a 1 a Madrid 3 a 1 a Madrid tifosi di squadre che pareggiano in casa e fanno i rigori contro il Pordenone ok noi abbiamo vinto 3 a 1 a Madrid ieri 3 a 1 a Madrid e se non fosse stato per una stronzata di un arbitro di merda dipendente dell'UEFA mafiosa probabilmente saremmo andati quantomeno ai supplementari poi ripeto poteva succedere di tutto ok però prendermi gli sfottò dopo una partita del genere no non ci sto se avessimo anche solo vinto 1 a 0 sì li avrei tranquillamente accettati ma dopo una partita del genere tu devi avere la dignità come persona di fare i complimenti alla Juventus come li hai fatti per la Roma perché la Juventus aveva non un'impresa come la Roma da fare dato che giocava a Madrid ieri doveva fare un miracolo e ci eravamo quasi riusciti quindi tu se sei onesto intellettualmente tu devi fare i complimenti alla Juventus se no tu sei una persona falsa perfetto detto questo io ragazzi vi auguro buona giornata a tutti sempre fino alla fine Forza Juventus orgogliosissimo di voi ragazzi veramente orgogliosissimo di voi ieri veramente mi avete fatto sentire orgoglioso di essere Gobbo ciao a tutti sempre qui in Italia soli contro tutti in Europa invece prendono le nostre difese tra l'altro vabbè ciao a tutti è un bel vaffanculo all'UF Madrid all'arbitro di merda e tutti gli anti-juventini qui in Italia pezzi di merda crepate perché adesso noi saremo incazzati neri non avete neanche idea adesso ragazzi andiamoci a prendere il campionato di Coppa Italia adesso non lasciamogli neanche le briciole porca puttana ragazzi dobbiamo vincere tutto qui in Italia contro questi pezzi di merda andate e andiamo a prenderci tutto e andiamo a prenderci tutto